22 luglio 1298. Edoardo I d'Inghilterra avanza verso Folkirk in testa a 28.000 soldati. Sir William Wallace, guardiano di Scozia ed eroe della Resistenza, lo attende nel bosco di Callendar sul fronte opposto. I suoi 7.000 uomini sono disposti in quattro Skiltron, formazioni difensive a riccio con lancia di oltre tre metri, e a coprire gli spazi fra un'unità e l'altra ci sono gli arcieri seguiti nella retroguardia dalla cavalleria leggera. Gli scozzesi hanno un grande vantaggio tattico, sono su un promontorio e il terreno che li separa dagli inglesi è paludoso, ma l'esito dello scontro non è affatto scontato. Sono mesi che Edoardo insegue i ribelli e cerca di far uscire Wallace alla scoperto per affrontarlo in una battaglia campale. È la sua occasione. I due eserciti si preparano e, secondo la leggenda, il guardiano di Scozia dà il via alle danze, se così possiamo definirle, con una frase. Vi ho portato nell'arena, ora fate vedere di cosa siete capaci. Ha inizio la battaglia di Folkirk e gli scozzesi commettono subito l'errore di lasciare l'iniziativa agli inglesi e aggirano la palude e attaccano sui fianchi. Le lunghe lance degli Schiltron li respingono, ma gli arcieri britannici fanno piovere una tempesta di frecce sui rivali e rompono i ranghi. La fanteria del re ne approfitta e insiste nelle cariche finché Wallace è costretto a ordinare la ritirata e darsi alla fuga. È la fine del suo prestigio militare. Dopo Folkirk, Edoardo lo bracca e lo cattura. Wallace è un traditore e deve soffrire con la condanna a morte riservata ai criminali del suo rango. Ma della sua orrida fine ne parleremo fra poco. Ciao a tutti amici di Vanilla. Oggi affrontiamo la storia di un personaggio che è diventato leggenda in Scozia e che è simbolo di libertà in tutto il mondo, soprattutto dopo il successo del film Braveheart che ha ricostruito in modo storicamente impreciso come solo Hollywood sa fare le vicende del ribelle scozzese. Prima di cominciare vi ricordo di cliccare sul tasto iscriviti se ancora non fate parte dei nostri su Vanilla e di spaccare il tasto dei like a fine video, ma solo se vi è piaciuto. E ora, cominciamo. Nella seconda metà del XIII secolo, Scozia e Inghilterra sono in buoni rapporti, ma i problemi iniziano nel 1286 con la morte di Alessandro III di Scozia, che precipita da una scogliera insieme al suo cavallo e non lascia alcune rete al trono. L'unica pretendente legittima è la nipote di tre anni, Margherita, anche detta la Vergine di Norvegia perché vive nel paese scandinavo insieme a suo padre, re Eirik II, che nel 1281 ha sposato la figlia di Alessandro. Margherita è troppo piccola per governare e la nobiltà scozzese organizza una agenza di sei guardiani che deve sedare alcuni tentativi di insurrezione legati al vuoto di potere. Eirik II e re Edoardo I intervengono per fermare gli usurpatori e firmano un accordo che prevede il matrimonio fra la bambina e l'erede inglese, il futuro Edoardo II. I due sovrani non consultano i guardiani che si trovano dinanzi al fatto compiuto, ma stabiliscono che la Scozia preserverà la sua indipendenza. Con queste premesse si giunge il 26 settembre del 1290. Margherita muore nelle isole Orcadi mentre naviga nel mare del nord per raggiungere la Scozia e il paese cade nel caos. Le redi dirette di Alessandro III sono finiti e si fanno avanti tredici pretendenti. I lord di Scozia non sanno come risolvere la disputa che rischia di sfociare in una guerra civile e chiedono a Edoardo I di arbitrare la contesa. Il monarca in realtà spera di rendere la Scozia uno stato vassallo e si pronuncia a favore di John Beliol, lontano discendente di un sovrano scozzese del XII secolo che, nei suoi piani, diventerà un re fantoccio al servizio della corona inglese. Le cose però danno diversamente. Edoardo non si fa scrupoli nel trattare gli scozzesi come suoi sudditi e la situazione precipita quando impone a John Beliol di intervenire al suo fianco nella guerra contro i francesi. La nobiltà scozzese insorge e un nuovo governo di guardiani ratifica un trattato di reciproca assistenza militare con la Francia. La rappresaglia inglese non tarda ad arrivare con Edoardo che invade la Scozia, spoglia pubblicamente Beliol delle insegne reali e lo fa imprigionare nella Torre di Londra. A quel punto i tempi sono maturi per assoggettare il paese. L'esercito inglese punisce qualsiasi insurrezione e in molti giurano fedeltà alla corona, ma c'è anche chi imbraccia le armi contro l'occupante. Ed è qui che entra in scena William Wallace. William Wallace viene ricordato come uno dei più grandi eroi della storia scozzese e la sua leggenda è stata tramandata per via orale fino alla fine del XV secolo, quando si passa alla tradizione scritta con un poema epico attribuito al menestrello Harry il Ceco. Ed è con la trascrizione delle ballate che Wallace si trasforma in un personaggio cavalleresco e la sua figura subisce tutta una serie di contaminazioni biografiche. Abbiamo certezze solo su ciò che riguarda il periodo fra il 1297 e il 1298, ovvero gli anni delle campagne militari e quello relativo alle ultime settimane del 1305. Tutto il resto sono ipotesi o sono fantasie dei posteri. William nasce nel 1270 a Eldersley, secondo genito di Allan o Malcolm Wallace, un cavaliere e piccolo proprietario terriero discendente di una famiglia vassalla degli Stuart, futuri sovrani di Scozia. Quando William è piccolo il padre lo manda da uno zio sacerdote per avviarlo alla carriera ecclesiastica, ma degli anni giovanili non conosciamo nulla. Qualcuno dice che il suo odio per gli inglesi sia nato dopo aver ucciso due soldati in seguito a un litigio. Altri lo attribuiscono a un ideale di libertà riconducibile alla lettura dei classici latini della biblioteca di suo zio. Un'altra questione irrisolta è la carriera militare. Quando scende in battaglia, Wallace dà filo da torcere agli inglesi e si dimostra un valido condottiero, il che lascia intendere che abbia avuto una qualche esperienza da mercenario, ma, come si è detto, sulla sua biografia non ci sono certezze. Intorno al maggio del 1297 giura fedeltà a Belliol e si unisce alla causa ribelle. La sua prima azione degna di nota è l'assedio di Lanark, con la città che torna sotto il controllo scozzese grazie a lui e i suoi trenta uomini. Di questo evento i poemi epici ci raccontano qualche particolare in più. Leggenda vuole che lo sceriffo locale William Hazelrig catturi e uccida Marion Bradfoot, fidanzata a novella sposa di Wallace, e il guerriero attacca la città per vendicare la ragazza con la moglie di Hazelrig. Dopo i fatti di Lanark, la rivolta continua in tutto il paese, ma l'esercito inglese riesce a far arrendere molti nobili e a far loro giurare fedeltà alla corona. Wallace, invece, amplia il suo piccolo contingente con nuovi volontari e imperversa nel sud della Scozia, con Sir Andrew de Moray, che fa lo stesso nel nord del paese. All'inizio di settembre i due comandanti si incontrano e uniscono le forze a Stirling, dove, l'undici dello stesso mese, affrontano le truppe del generale John de Varenne, sesto conte di Surrey, e del tesoriere inglese in Scozia Hugh de Cressingham, in quella che passerà alla storia come la battaglia di Stirling Bridge. Circa 9.000 inglesi si apprestano ad attraversare il fiume Forth attraverso uno stretto ponte di legno, e Wallace attende che metà della fanteria rivale raggiunga il centro. A quel punto ordina un attacco a sorpresa con gli arcieri, che tempestano di frecce il ponte, mentre gli Skiltron escono allo scoperto per puntellare a suon di lance le prime linee nemiche. Nel giro di pochi minuti si scatena l'inferno, la fanteria inglese inizia a tornare indietro e si scontra con la cavalleria che alle sue spalle sta imboccando il ponte, che non regge al peso di tutti quegli uomini e crolla. Chi non muore nell'incidente viene braccato nei terreni paludosi circostanti e, secondo le stime scozzesi, le vittime al servizio di Edoardo I si aggirano intorno ai 5.000 uomini. Il conte di Sarri riesce a salvarsi, ma Cressingham non è altrettanto fortunato. Viene catturato e orrendamente ucciso in segno di sfida alla corona inglese. La battaglia di Stirling Bridge rappresenta l'apice della resistenza scozzese e, anche se de Moray si spegnerà in seguito alle ferite riportate, Wallace può avanzare fino all'Inghilterra settentrionale, dove compie saccheggi nelle contè di Northumberland e Cumberland, al confine con la Scozia. A dicembre torna in patria con una fama di tutto rispetto, che gli vale la nomina a cavaliere e a guardiano del regno. Belliol è ancora prigioniero a Londra, Edoardo gli concederà l'esilio in Francia solo nel 1301, e Wallace rinnova il giuramento di fedeltà al legittimo sovrano scozzese e si impegna a governare al meglio delle sue possibilità quelle stesse terre che ha contribuito a strappare agli inglesi. Nel farlo all'appoggio di molti nobili, primo fra tutti Robert Bruce, che in passato ha combattuto per la ribellione prima di arrendersi agli inglesi. La pace però dura poco, e già nel 1298 la corona mette in campo una nuova campagna punitiva. Edoardo I desidera annientare Wallace, il simbolo della resistenza scozzese, e parte insieme all'esercito per costringerlo a una grande battaglia campale. Le truppe inglesi varcano il confine avanzano fino a Sterling senza colpo ferire perché Wallace ha ordinato di adottare la tattica della terra bruciata. Il suo piano è semplice. L'esercito britannico si trova in superiorità numerica e spera di logorarlo, distruggendo campi e villaggi man mano che le truppe scozzesi ripiegano per dar modo agli inglesi di avanzare. Se la tattica dovesse avere successo, Edoardo ordinerà la ritirata in un luogo sicuro, e i suoi uomini decimeranno le truppe con degli attacchi a sorpresa. All'inizio sembra la tattica vincente. Gli inglesi patiscono la fame per mesi, ma quando Edoardo è sul punto di tornare indietro, il 21 luglio giunge a Kirkston e scopre che gli scozzesi sono accampati a pochi chilometri da lì. Così ha luogo la battaglia di Folker. Da una parte c'è Edoardo I, desideroso di assoggettare la Scozia e porre fine alla ribellione, dall'altra William Wallace, il garante dell'indipendenza scozzese. Come ho raccontato all'inizio, il re inglese vendica l'affronto dello Sterling Bridge e infligge una sonora sconfitta ai rivali, con Wallace che è costretto a darsi alla macchia. Senza di lui la nobiltà scozzese decise di giurare fedeltà alla corona inglese e porre fine alla guerra. Anche Robert Bruce guarda i suoi interessi personali e passa dalla parte inglese. Poi, insieme a John Comyn, terzo signore di Bedanoch, eredita il ruolo di guardiano di Scozia. Nel frattempo Wallace scappa e si dà alla guerriglia per circa un anno e, stando ad alcuni documenti ritrovati, si reca in Francia per sollecitare l'intervento di re Filippo IV. Torna in patria nel 1299 e di lui si perdono le tracce per più di quattro anni. Sappiamo che nel 1304 continua la lotta agli inglesi con pochi mezzi, ma un cavaliere scozzese al soldo della corona inglese lo cattura nel 1305 e lo consegna a Edoardo I. Wallace viene portato a Londra e processato al palazzo di Westminster con le accuse di brigantaggio e alto tradimento. Sul brigantaggio non batte ciglio, ma sul tradimento risponde di aver giurato fedeltà a John Beliol e non a Edoardo I. Ovviamente il suo destino è segnato. Il 23 agosto del 1305 la giuria lo dichiara colpevole e lo condanna a morte. Ma non a una morte qualsiasi, perché Edoardo non vuole solo sbarazzarsi del suo acerrimo nemico. Edoardo vuole spezzare il simbolo della ribellione scozzese. I soldati avvolgono il prigioniero in una pelle di bue e lo legano a un gruppo di cavalli che lo trascinano per le strade di Londra. La premura della pelle di bue serve a evitare che il suo corpo si lasciare troppo in fretta e per non rischiare che il prigioniero muoia prima del supplizio finale. Nel secondo atto della condanna lo scortano nella prigione di Smithfield, dove lo impiccano e tagliano la corda quando sta per soffocare. Ancora non gli è concesso di morire. Il supplizio va avanti, viene mutilato con l'accortezza di restare in vita il più a lungo possibile, poi lo sventrano e lo squartano con cuore, fegato e polmoni che finiscono bruciati nel fuoco. Lo spettacolo si conclude con la decapitazione di quel ammasso di carne e sangue che ne è rimasto. La testa viene impalata, incatramata ed esposta sul ponte di Londra. Gli arti finiscono esibiti come monito a Newcastle, Berwick, Perth e Stirling. È il 23 agosto del 1305. William Wallace muore sotto atroci torture, ma ha inizio la sua leggenda. Negli anni successivi gli animi non si placano e nel 1306 Robert Bruce dà vita a una nuova insurrezione. Le sue truppe vincono su quelle di Edoardo II, nel frattempo succeduto al padre, e Bruce sale al trono con il nome di De Roberto I. Ma la Scozia non resterà indipendente e la questione politica con l'Inghilterra continuerà per secoli. Dalla morte di William Wallace ci saranno ancora tantissimi altri tragici eventi. L'ascesa degli Stuart, la morte di Maria Stuart, la causa Giacobita, il massacro di Glencoe ai danni del canne MacDonald, il giovane pretendente Carlo Edoardo e la disfatta di Culloden, che segnerà la fine della cultura delle Highlands. Ma queste sono tutte altre storie. Io per oggi mi fermo qui, vi saluto da Casa Vanilla a Ravenna, sono tornato in Italia in Pianta Stabile. Adesso tocca a voi lasciare qualche commento su William Wallace, o magari anche solo sul film Braveheart, che per quanto impreciso storicamente è sicuramente evocativo. Ciao a tutti, al prossimo video! Ciao a tutti! Ciao a tutti!